Martedì 13 maggio, buon pomeriggio da Rocco Cillo e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Saperi e Sapori. Un'esperienza multisensoriale, un viaggio alla scoperta di cinema, cibo e teatro per gli spettatori di Cinema al Buio, in programma il 16 maggio al Galleria. Antonietta Basile. Non solo film durante la settimana dedicata al grande schermo a Bari, cibo, musica e teatro per Cinema al Buio, in programma il Galleria il 16 maggio. E questa sera doppio appuntamento, sempre al Galleria, le 18 alle 21, con la proiezione del capolavoro di Quentin Tarantino, Pulp Fiction. E c'è chi la musica non solo la ascolta, ma la vede, come l'artista Mauro Moretti. Ligabù, Eric Clapton, Daya Streitz, Ivano Fossati, ispireranno i disegni dell'artista. La performance Andresciana giovedì 15 maggio alle 21 e 15 all'auditorium Vallisa durante l'iniziativa a vedere la musica. Gli ultimi due secoli di storia della moda pugliese, narrati con ago e filo a conversano. Leonardo Ingravallo. Moda e arte nell'abbigliamento tra 800 e 900. Il titolo della mostra è in corso nel Palazzo Vescovile di Conversano. Abiti da sera, decorazioni con fiori e farfalle, abiti da sposa, nonché i consumi tradizionali del subappennino d'Auno. Sono tra le centinaia di capi di abbigliamento esposti. La mostra sarà aperta fino a fine maggio. Non solo gastronomia e artigianato alla Fiera di San Cataldo, al via oggi a Corato. Diletta Simonetti. Arti e mestieri, ma anche gastronomia, politica e cultura saranno protagonisti dell'ottava edizione della Fiera di San Cataldo. La campionaria, organizzata dall'Assessorato allo sviluppo economico del Comune di Corato, andrà avanti fino al 29 maggio. L'ingresso per gli spettatori è gratuito. Grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento con Saperi e Sapori. Grazie per averci seguito.